Era l'8 agosto 1940 e in quel caldo pomeriggio d'estate due scoppi squarciarono il cielo limpido di Piacenza. L'esplosione all'apertite, la fabbrica di caricamento proiettili di via Emilia Pavese, oltre a causare centinaia di feriti, si portò via 47 vite umane. Una disgrazia, domani saranno 81 anni, che pur apparendo così lontana è in realtà tremendamente vicina, dato che ancora oggi sul lavoro si continua a morire con inquietante frequenza. Stando ai dati Anmil, in provincia di Piacenza, nei primi sette mesi del 2021, gli infortuni mortali denunciati sono stati 10, due in più rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Gli incidenti sul lavoro sono stati 1999. Questa mattina, vigilia dell'81esimo anniversario dello scoppio, la consueta commemorazione. Piacenza non dimentica, ma deve prendere coscienza e cercare di invertire il trend. Questo è il messaggio. Occorre fare un passo in avanti per rafforzare anche l'impegno sulla sicurezza. Bisogna ricordare che in Italia il più del 90% delle aziende hanno meno di 15 dipendenti e quindi il discorso dell'informazione, della sicurezza, della formazione viene un po' tralasciato. L'atto dell'assunzione, quando si cambia una mansione da un lavoro all'altro, da un macchinario all'altro, è giusto fare addestramento, perché manca l'addestramento. Un altro problema al giorno d'oggi del lavoratore è lo stress del lavoro correlato. Sarà una barriera, anche questa, da superare. Presente, come sempre, Bianca Rossi, figlia di una delle vittime della pertite, che all'epoca aveva 10 anni. Quando siamo vicini alla data, torno indietro, torno indietro, torno indietro. E sono sempre più convinta che mia mamma è morta intanto che usciva dallo stabilimento. Sono sempre più convinta, perché era vestita bene.